Tagliela E come cazzo fa a mangiare così? C'è talmente piga che mangia girata al contrario Come cazzo fa la mela ad andare su? Me lo spieghi? Ma è che la mela si ferma in gol? C'è un... Sembra grumosa sta mela Mi sembra asciuttissima È vero? La vedo da qua Sembra il limone dell'altra mattina Sì Scusa, ci sono le mene quelle gialle in frigo Le stai ancora facendo video? Sì Ho mai visto un cane mangiare alla pancia in su? Una novità per me Poi lei non ha mai mangiato in quella posizione Di solito quando c'è da mangiare Mela si mette subito Quiero... Quiero... Ho ahihihi